Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. La situazione più comune per la dimostrazione dell'aggressività del cane è l'incrocio coi suoi simili ed è anche la situazione nella quale i proprietari subiscono più incidenti. Premetto che l'attenzione e l'occhio sul cane sono una condizione imprescindibile, è obbligatorio non staccagli mai e poi mai gli occhi di dosso, questo serve per captare i segnali di comunicazione che non arrivano mai all'incrocio ma sempre molto prima, a seconda della razza del tuo cane si parla anche di 100 o 200 metri. In questo lasso di tempo si può gestire il cane. In primis dobbiamo seguire le istruzioni che ho dato nel video precedente, ti lascio il link qui sotto nella descrizione e poi mantenere la calma. Il cane nell'interazione con un altro cane al guinzaglio si sente più forte, è normale perché non può comunicare liberamente e si sente sostenuto dal compagno umano. È necessario molto prima che si incroci l'altro cane puntare a mantenere calmo il nostro e seguire queste piccole regole. 1. Non appena si avvista un cane verificare il comportamento del proprio. 2. Se dimostra segni di avversione o di abbaio fermarsi immediatamente. 3. Chiamare il cane e girarsi di 180 gradi, dovete dare l'espressione che arriva da dietro. 4. Dopo il punto 3 cominciate a camminare nella direzione opposta interponendovi fra il vostro cane e l'altro. 5. Cercate di non fare incrociare i loro sguardi. 6. Se riuscite a passare senza che il cane abbai, premiatelo. Questo non è uno schema riabilitativo ma vi permetterà di bypassare l'ostacolo. Lo scopo principale è di contenere la situazione cogente e il prima possibile dovete rivolgervi ad un esperto per sistemare la situazione del vostro cane. Spero che questo video vi possa essere stato utile e continuate a seguirci sul nostro canale youtube e sui nostri social.